Ciao a tutti e benvenuti in un video di Dark Souls 2 Siamo ancora qui nel castello di Drangleic Abbiamo appena fatto fuori l'Isia che spacciava per un usurpatore sconosciuto Ma si vedeva che era lei Non è che ci voglia un genio per capirlo che fosse lei Però, pazienza Però, insomma, l'abbiamo fatta secca neanche con troppa difficoltà La volevo parare ma con questo scudo non so parare, lo devo ammettere Sta proprio con gli scudi medi non riesco a parare Ci vuole abbastanza impegno per imparare a parare questi scudi Oh, la Chandra La Chandra versione umana Diciamo, prima che diventa tipo Be one with the park You have fought admirably on your journey, cursed undead Hmm I am la Chandra Queen of Drangleic A true monarch carries the weight of their souls The last king of this land King Vendrick As he was called He found the strength to rule his people And when the undead were born Cursed He found more strength to face them Yeah But in the end He never took the true throne Visit Vendrick We have no need for Persona Niente Vapio Il dialogo l'ho lasciato andare A parte che era corto Un po' Epica come cosa Dai Non è che poteva evocare Luca Tillo Qualcuno qui Non mi pare Non è che poteva evocare Luca Tillo Non so Sbaglio forse Forse sbaglio Non è che non è complicato Però Sono due Dragon Rider Praticamente Non ho più stamina Non posso giocare nel mio stile Quello è il problema Che se non posso giocare nelle missioni Non so giocare È un po' un problemone Qua è quasi andato Quindi Mi dà una mossa Merda 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 Va a colpirmi Non è che c'è solo Prato Ma ha colpito il bastardo Bastardo Non posso rotolare Maledizione Ok Ok E' andato Via 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 Scappa Quando non ci possiamo Domani Curati Ok Benone Siamo tu e io Caro Ho vinta Sta boss fight Ormai Comunque Però Oh mio dio Non poter rotolare E' veramente brutto Mi devo risparcare Il prima possibile Intanto Ce l'ho un altro Un altro Soulbessel Quindi Vabbè Oh my god The Ness Volevo metterci la musica Di Benny Hill Sotto Come con la sonora In questo video Bastardo Perfetta Musichetta La Benny Hill Aspetta Facerebbe qualcosa Sotto la fare di qua Credo Di qua Mi sa che si va Ah si dove sta l'ascensore Però non Lo posso attivare Perché Come no Non lo posso attivare Non dobbiamo poterlo attivare È chiuso E si deve andare per forza di là Vabbè Ah si Devo salir sopra di là Blah 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 Vabbè Andiamo ad attivarlo Va Tra l'altro Non so neanche a quanto Sono arrivato Il video in tutto Perché Ho stoppato Di registrare Prima dove dovrebbe essere morta Poi sono andata indietro Ho cominciato a registrare Ma non mi ricordo A quanto era arrivato Di preciso Di registrazione Quindi Un po' un mistero Questo La scala più lunga del mondo Tra l'altro Credo che sparò 4-5-6 minuti E poi basta Forse anche se viene Un po' più corto Degli altri Pazzia Allora Allora Quasi 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 In one shot Quasi Venone Oh Mi ha dato il palato di bello Lancia questo palato di pietra Non male Ora Questo lo faccio secco E questo lo faccio secco Di fatto Dai Fuori Così Va ad alimentare Il golem Venone E Questi Potremmo far fuori Un po' così a random E in questi casi Che l'output di danno alto Come ho io Fa molto comodo Diciamo Ma molto comodo Lancia il salato di pietra Posso fare un duo wielding Di lancia il salato di pietra Ascensore esso si è attivato Non male Allora Uno di questi forse era un mimick Se non sbaglio Non mi ricordo di preciso Ho trappato un mimick Forse mi sono sbagliato Il martello del cavaliere L'arma Molto emozionante Peccato che Sottona di kaita Il spazzone dell'anio Peccato che duri solo Trenta Il mega Il mega martellone Se non sbaglio E ora Siamo usciti di qua Nella hall principale Diciamo E lì ci sono I mega mammutoni Poi ci sono anche I cavalieri Bastardi Faccio diventare un puntaspilli Tempo per arrivare lì qua E diventare un puntaspilli Vivente Non c'è la quale Ad arrivare qua Ora morirà Mi dispiace caro Dios Non ho trovato niente Perché l'ho ucciso In maniera abbastanza codarda Non per quello Ma Non troppa niente di suo Eh Lo razzo Quello che tu non l'ho vista Che puro One shot One kill Yes Last shot Allora Di tipo 4-5 Di colpire One shot In realtà Cazzo Veleno Ecco Mi ricordo che c'era uno qui Diciamo Trappato Era quello Non era quello di prima Breccia pesante di fuoco Buono Buono E' qua caro Aia 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 simile a quell'altra onestamente vedevo dirlo insomma 37 scala a forza più o meno come quell'altra stiamo lì proprio questo è un po più potenziale quindi prorato questa forne al fron e quasi quasi mi sa che dopo mi vado a formare per presentire della rovina e femminile come armatura gli sta meglio queste la fanno troppo tozza non ispira particolarmente come armatura e questa n'è quella che si andrà ouch ouch questa tripla combo assassina che non perdona proprio comunque andiamoci né fuori con the castle e proseguiamo qui c'è un bel mammutone caro mammutone quanto sia resistente mammutone con una scienza di benna più 10 ti faccio così poco danno come ti pareva poi la fece mi trova arrivare altrimenti non andava bene da me ne arriva un'altra se non me ne vado come è davvero di bello scudo grande del mastodontico l'unica l'unica parte dell'armatura che non mi serviva ovviamente me l'ha droppata io non credo di poter entrare vero l'unica parte proprio del subipaggiamento che non volevo ma dato quella non è l'unica sia l'arma che quella non ne volevo lo scudo movimenti volve riparante fiamma della farfalla non male mimic no però ho cominciato a cosa fosse un mimic guardiamo male evidentemente fermento di fiaschetta esus siamo a 11 me ne manca uno per arrivare al massimo max adesso vatti a ricordare e vai a capire qual è l'unico che mi manca è un po' un mistero probabilmente non lo troverò mai l'ultimo pezzo ma vabbè siamo speranzosi insomma e tre bastardo arciere palestriere più di arciere diciamo e sveg siamo quasi a 50 mila anime se sarebbe il caso il prima possibile di tornare un attimo indietro e utilizzarle prima di perderle magari ah qui torniamo indietro abbiamo fatto tutto il giro ok perfetto lo ricordavo a posto torniamo un attimo a Majula e spendiamole molto 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 velocemente cioè che ci siamo in modo da liberarci del peso vedete la responsabilità di portarci alla presa anche perché abbiamo qui una feschetta da usare per dare a l'araldo oh yes 59 mila quasi 60 mila anime dammi qua è proprio uno shard hai ragione shanadotta hai ragione forza sapete che c'è mi sa che mi va da rispeccare così faccio il dual wielding questa vaga sensazione sa che è arrivato il momento percepisco che è arrivato il momento nel prossimo prossimo video mi sarò rispeccato probabilmente non lo faccio in camera perché sto lì tipo mezz'ora a calcolare tutte le stat sarebbe valutissimo da vedere che rispetto il personaggio vediamo della sentinella com'è vediamo un po' come gli sta oddio è orrendo è bruttissimo oh mio dio è oscenamente brutto Faram Faram è carino ma non c'entra niente con il resto dell'armatura per cui questo stessa storia non è carino ma non c'entra niente mettiamoci il cappuccio del prigioniero che mi aumenta un po' drop rate con questo si potenzia l'armatura della della sentina della ruina il resto dell'armatura mi piace molto non mi piace l'elmo ma vabbè l'elmo lo userò comunque in ogni caso dovrebbe venire molto figa a comprare l'armatura della ruina molto molto figa vediamo un po' vediamo un po' dove sta l'armatura della ruina dove siete guardate quanti pezzi dell'armatura di giro perché ho farmato le pietre i titaniti per potenziarmi il equipaggiamento oh diavolo i gambali come siete eccoli finite scintillante ah però beh ne ho un po' finiti scintillanti venone più 4 mi ambaria della ruina più 4 o male probabilmente l'armatura finale che gli farà utilizzare sarà quella della ruina che gli sta bene come immagino che gli sia poi non so di sicuro ma si proverà insomma si proverà basta provare a farmarla col cavo tu su ring fa gli equipaggiamenti insomma però qua non torno indietro andiamo l'ascensore andiamo avanti ascensore ascensore mi sono già abbastanza attenzionato a questa del primo mutone però non è non è come lo vorrei io il personaggio quindi soltanto che farmerò dopo off camera quella delle sentinelle se riesco a farmarla tutta tanto mi servono solo mi manca solo l'armatura principale sopra i guanti i gambagli ce li ho mi mancano due pezzi due parti di armatura ah qui c'è tipo il tizio incatanato con la milf anito dentro con la milf anito ma milf anito e ornifex diciamo che si vede insomma che è il passaggio del re yay ostacolo per anime se metti fuoco che ne ho due sono ostacoli per le anime quindi proprio alla grande studo magico migliorato ovviamente qui adesso non possiamo fare niente perché ci serve la key of the embedded che prenderemo uccidendo il ranocchione in final semana quindi il ranocchione con la faccia da scheletro per cui qui non possiamo più fare niente al momento oltre che luttare il luogo diciamo guardate ma è più leggera rispetto a quest'altra quella delle sentinelle questa pesa 9,8 le gambaglie della sentinella pesano 6,2 si pesa meno decisamente meno penso che anche di tutto il resto peserà meno non male non è detto che qui si pesano che resta però secondo me sì perché è sempre più leggera a vedersi un'armadura più stretta meno acciaio diciamo forse sarà anche leggermente meno difesa però se steticamente è meglio la difesa non è troppo inferiore non è male come cosa poi di qua e andare a trovare festa bello stat di poter evocare qualcuno che meglio una manina con travesta riesco riesco a evitare andarci da solo quello che poi evoca pure un amichetto quindi meglio evitare la cosa facciamo le statue prima che si alzino in modo che non ci rompano le palle a parte che anche quando si alzano non è che sono qualcosa di pericoloso dato che abbiamo un casino di danno di PS ci sfugniamo a bestie guardate che roba non hai fatto così poca fatica a ucciderne queste anche se è abbeccato curati nice 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 certo qui la prende siamo vitale dovrebbe essere un'altra lì infatti quella non ha la testa ok no ce ne sono più l'ho fatta secca tutta vieni qua caro boom adios adios amico ah è vero adesso sto giocando offline quindi qui non avrò nessuno da evocare che bello anche nel pc tra l'altro venone vabbè lo faccio fuori io tanto non è così tanto difficile basta farlo secco prima che evo il simpatico fantasmino oh io ho rotolato vabbè sempre il solito problema non ho abbastanza tattabilità quindi non riesco a regolarmi bene su quando devo rotolare e come devo rotolare ecco appunto tipo quelli vieni qua caro peccati questo faccio poco danno molto meno di quanto vorrei amica che spada lunga che hai per ucciderti meglio oh yes peccati questa va no bastardo no no non è giusto l'hai evocato io lo vado a uccidere subito appena l'hai evocato ma peccato bastardo ok non ho fatto già far rotolare bastardo la cosa è proprio in controtempo mi ha preso mi ha preso ha sempre sto scudo in mezzo che rompe le palle comunque ora morirai mi piace testus fuori va bam ho stunnato tra l'altro lo poteva status tra l'altro mi fanno divertire di utilizzare diciamo mi fanno divertire tantissimo utilizzando un tipo di gameplay un tipo di stile di gioco totalmente differente al mio perché se fossi stato con le armi leggere adesso avrei fatto fatica a uccidere la sua spawn invece così l'ho two shotato con due volpi l'ho steccata sono andato subito al boss diciamo sono tutte queste piccole cose che mi fanno divertire poi però quando devo affrontare dei boss molto veloci oppure devo schivare rotolare contro molteplici nemici mi trovo veramente con l'acqua alla gola però mi diverto spesso mi sto divertendo ho fatto qualche qualche morte in più di quanto avrei voluto probabilmente neanche troppe ho qualche morte in più di quanto avrei voluto ma mi diverto un casino giocare così perché non ci gioco quasi mai quindi e volevo registrare così i video perché mi volevo mettere alla prova proprio nei video per divertirmi ancora di più guardo dell'anima nello che forse per mi chiedermi di più e farlo ascenso buono buono mi diverto molto errimo molto errimo molto errimamente proprio qui non c'è niente c'è una visuale molto brutta del ruolo praticamente bisogna dire la gente ci lascia i messaggi bella visuale bellissimo visuale è una roccia che è davanti con la pioggia è bella visuale ok comunque mi ha fatto secco anche non è la Vestat la sentinella il cavaliere del minor knight quello là Vestat sta ancora più avanti a volte mi confondo un po' con i nomi non fateci caldo bell'ascensore ok eccoci tra l'altro non so che non funziona questo ascensore pazienza ci sono legati a Shrino Famana eeeh bro vediamo ancora vediamo un oggetto thank you very much fiore verde veramente mi cambia la vita come ho sempre detto i fiori verdi non l'ho ancora usato nemmeno uno all'inizio del gioco praticamente ma ok ti do con soluzionamente ti aumentano un po' la resistenza del veleno se non sbaglio è quello che lo fanno non fanno altro comunque serve il muschio verde per curare il veleno quello è utile ma il resto non è non è utile per niente comunque assettiamoci sentiamo i canti gioiosi delle milf a nito in sottofondo speriamo un attimo a Machula spegniamo le anime che abbiamo guadagnato il prossimo video comunque sicuro che mi rispecco il pg lo faccio dual wielding con l'armatura delle pelle delle pentinelle se riesco riesca a dropparla per un'isilio insomma comunque abbiamo qualche anima da utilizzare cosa fa no perché non ho avuto tanto carta cioè non ci faccio niente fame per un giro capace the curse un vigore 40 mi importa se tanto uno ma tanto non lo rispeccherò, mi sto prendendo un po' a casaccio adesso i punti perchè poi lo rispecco comunque in ogni caso la rispecco allora vai nuova mana eccoci qua ah potevo comprare qualche freccia probabilmente qua le frecce sono utili rob, quante ne ho? 9 per forza scusatemi ma devo comprare le frecce altrimenti non vado lontano qua le frecce sono molto utili l'acqua è fondamentale qui praticamente e considerando che ho un'acqua lunga più 10 non mi lamento dammi un fottivo di frecce grazie mille cosa? che sono rimasti solo 10? non ce l'hai infinite what the fuck? guarda dammi quelli di legno non me ne 100 di legno la 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 100 perfect verone mega laggata ho visto ma fateci caso perché giuro adesso finirò di caricare tutti questi video registrati fino adesso sul canale poi ti cancellerò e mi libererò tutto lo spazio sull'hard disk farò anche un deframmentone qualche cosa devo fare perchè non può essere che fa così poi si installerò anche il programma per registrare non può essere lo ristallerò perchè c'è qualche virus che fa qualcosa che entrava qualche errore di sistema qualcosa che mi rallenta la registrazione devo capire deciso cos'è perchè non lo so e possiamo cadere lì sotto l'oggetto lo sapevo che morivo lo sentivo guarda lo sentivo lo sentivo si sapevo un'altra arma questa si sbilancia proprio in avanti e caiba di sotto e dunque vedete cosa dico quando intendo morti inutili, idiote e senza senso? ecco un perfetto esempio qui davanti a voi quella che avete appena visto è una mia classica morte proprio quelle classiche che faccio che faccio sempre diciamo le morti più stupide del mondo praticamente potrei fare tipo un guinness di deprimati delle morti in dark souls più stupide mai viste potrei fare tipo un mix probabilmente un video con tutte le morti stupide perché la c'è quel fungo ogni volta che passi un mistero errebbe a crepuscolare passione in centro dallo scettico e l'amilfanito come canta oooooh per qualche motivo su di noi non fa effetto non so perché pur vero che se arrivavamo qui ci tormentavamo finiva il gioco così non eravamo il massimo della vita però insomma stardo quanto sei veloce eh tenete scintillante grazie mi servirà per la mia prossima armatura un po' come al sicuro un peccato di striscio un figlio umano buono buono ora quando andiamo nella baracca smetterà di cantare prendiamo una torcia perché non mi ricordo di preciso il passaggio però c'è questo giustino trucchettino che prendete la torcia vedete meglio dove state andando e non cadete di sotto nell'acqua profonda in genere non posso andarci ok è certo che abbiamo fatto cadere di sotto con la nostra vita prima andata di tenere scintillante buono 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 decisamente ottimo decisamente decisamente direi comunque siamo qui dentro ciao caro se stai fermo lo cari ti fai a coppare ok grazie gentilissimo grazie per la tua cooperazione mi ha smesso di cantare così sono impazzati ok perché è finito il concerto oh merda sapere maledetto maledetto vasoli è rucolo un po' crimsi veramente come vivere senza l'acqua crimsi vedete Ehi Milf Anito, dove sei? dove sei Milf Anito? oh ecco ti we knew you were coming and stop singing we are Milf Anito we are here to sing to those bound by death and dark dark we will sing here forever as we always have from long long ago we know nothing of the world outside and why should we for we will never leave do you see but what is a king after all we know nothing of the world out for me when we sing the little the little ones grant this are the fatine intorno is there anything perhaps this is all ok ciao no 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 absenteorni slantare addosso questo video finisce qui interrotto un po così all'improvviso ma quasi 24 minuti quindi credo sia il caso di smettere altrimenti ci metto 44 anni a caricare il video spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto se non bella commentate se non siete iscritti iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima